Senza far rumore, film prodotto da Blerta Uzzina ma chiaramente tratto dal romanzo di Michele Ferruccio Tuozzo. Blerta, quanto è importante continuare a sensibilizzare su un tema scottante come questo? Innanzitutto voglio precisare che sono la copo produttrice albanese, invece la parte italiana è curata da Luca Guardabascio e Oran Culture. È molto importante per noi in Albania, specialmente dove la violenza contro le donne è qualcosa di terribile. Quindi abbiamo accolto il romanzo di Ferruccio Tuozzo con Gioia e anche questo nuovo progetto e speriamo e siamo convinti che avrà un grandissimo successo. Michele Ferruccio Tuozzo, una grande soddisfazione vedere un prodotto cinematografico tratto appunto da una tua opera. Grazie, una grossa soddisfazione. Ci contavo tantissimo perché questo libro tratta di una storia realmente accaduta, una storia vera. Narra di una violenza domestica e che sono quelle violenze che appartengono al sommerso, che non vengono denunciate. Quindi a maggior ragione è un doppio successo da parte mia per cercare di fare rumore su questo argomento qua. Grazie. Grazie.